buongiorno a tutti in questo momento così delicato ho pensato fosse opportuno inviarvi questo messaggio innanzitutto voglio ringraziare tutti quanti voi tutti quelli perlomeno che hanno risposto attivamente al supporto che noi abbiamo dato ai consigli che ogni giorno cerchiamo di dare per trovare un nuovo modo di lavorare però nuovo ma molto interessante devo dire tant'è vero che tutti quelli che hanno risposto al supporto che noi abbiamo dato evidentemente hanno avuto dei risultati positivi e questo in qualche modo li ha entusiasmati hanno visto che facendo alla fine qualcosa si può ottenere nonostante questo diverso modo di lavorare però vorrei rivolgermi anche a quelli che invece hanno scelto la strada della demoralizzazione quindi la strada del non fare nulla il momento è critico quindi ci si butta giù non si fa nulla io penso che questa sia la strada peggiore fare significa ottenere risultati e ottenere risultati ci fa sentire sicuramente meglio anche in un momento così brutto così triste ecco ci fa sorridere ci fa trovare un nuovo modo di vivere e comunque di passare la giornata in modo molto più sereno questo ve lo garantisco ecco poi vorrei anche aggiungere un'altra cosa vedete questo nuovo modo di lavorare è per noi una grande opportunità se il virus non fosse veramente una tragedia per molti con cittadini devo dire che se ci si ragiona bene per noi è veramente una grande opportunità perché perché ci sta spingendo fortemente verso la tecnologia anche coloro che in tutti i modi l'hanno rifiutata e vi confesso insomma io in quota parte sono uno di quelli siamo costretti invece a utilizzarla e vogliamo imparare e quindi questo è un momento straordinario che in una situazione normale sicuramente nessuno di noi avrebbe fatto quello che noi stiamo facendo oggi facciamo delle cose che forse non avremmo mai pensato di fare e la cosa più bella è che nel farne ci rendiamo conto che si ottengono dei bei risultati e allora invito tutti quelli che già lo stanno facendo di continuare a farlo e sono convinto che lo faranno ma soprattutto anche quelli che hanno scelto la strada della demoralizzazione di avere una reazione di dire noi ce la possiamo fare noi stiamo in un gruppo che ci sta seguendo attivamente e quindi siamo una grande forza siamo una grande forza tutti insieme bene vi ringrazio per l'attenzione a questo video e vi auguro una buona giornata e un buon smart working a dimenticavo io resto produttivo